Società Anonima a Panama. È vantaggiosa solo per i ricchi? La economia digitale ha creato nuovi utilizzatori della Società Anonima a Panama, con profilo molto diverso dai precedenti. Un tempo la Società Anonima a Panama era uno strumento giuridico utilizzato soprattutto da imprese con interessi transnazionali. Oppure erano utilizzate da privati con la intenzione di proteggere il proprio patrimonio. Ma negli ultimi anni abbiamo visto apparire un altro profilo di utilizzatore. Si tratta di persone che non appartengono per il momento, all'elitto finanziaria. La maggioranza sono giovani sotto i 40 anni. Hanno costruito un business online che gli garantisce un arreddito mensile interessante. È ora di dare una svolta alla tua vita. Informati sul nostro sito o prenota una consulenza per cambiare vita.